25 seminari e workshop, 100 stand espositivi di istituzioni, imprese e agenzie formative, momenti di approfondimento su sport e innovazione e 9.600 colloqui con i rappresentanti delle aziende e gli operatori dei centri per l'impiego. E ai blocchi di partenza, nello spazio fieristico di Cagliari, il Sardinian Job Day. Le due giornate di orientamento, in programma il 24 e il 25 gennaio, prevedono inoltre alcuni ospiti del mondo dello sport. Il campione di MotoGP, Loris Capirossi, lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari. Ricca l'offerta di seminari e workshop è variegata alla platea dei destinatari, da chi necessita degli strumenti di base e competenze trasversali per la ricerca di un'occupazione, a chi vuole migliorare la propria occupabilità, fino agli studenti delle scuole superiori e delle università per una panoramica delle professioni emergenti nel mercato. Per lavorare all'estero sono in programma incontri tenuti da esperti EURES, che daranno informazioni e consigli a chi è interessato a fare un'esperienza professionale in Europa. Articolato il programma di iniziative è previsto nell'area dedicata all'innovazione digitale. Da una parte gli interessati possono partecipare ad un percorso guidato tra gli stand e il padiglione, per conoscere un contesto lavorativo in costante mutamento, da avere i primi strumenti per iniziare ad orientare le proprie scelte professionali. Dall'altra è in programma Festac, una maratona di cervelli lunga sei ore, per trovare una soluzione brillante al problema posto in vari ambiti di aziende che lavorano sul territorio sardo. In palio per i vincitori la possibilità di sostenere un colloquio finalizzato allo svolgimento di un periodo di tirocinio retribuito per continuare a sviluppare il progetto proposto. Grazie. Grazie. Grazie.